Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione web della città. Sono le 6 del mattino di martedì, noi siamo in diretta dalle 15 di ieri pomeriggio, ora di chiusura dei seggi qui a Torino e non abbiamo ancora un dato definitivo per quanto riguarda né l'elezione diretta del sindaco, né il consiglio comunale né tantomeno i consigli di circoscrizione che sono ancora un po' indietro nello spoglio dei voti. Però il dato è ormai acquisito, Piero Fassino è il nuovo sindaco della città di Torino con il 56,65% dei voti quando mancano soltanto due seggi all'appello. Michele Coppola arrivato secondo con il 27,31%, seguono gli altri candidati che andiamo a dirvi, Vittorio Bertola 4,98%, Alberto Musi 4,86%, Domenico Coppola 3,57%, Iuri Bossuto 1,5%, Giacinto Mara 0,37%, Rossana Becarelli 0,34%, Daniele De Betto 0,15%, Nicola Cassano 0,14%, Lorenzo Varaldo 0,07%, Giorgio Portis 0,06%. Per quanto riguarda il consiglio comunale mancano sempre i soliti due seggi, il Partito Democratico ha la maggioranza in città con il 34,49%, Popolo della Libertà a 18,29%, seguono i moderati per Fassino 9,06%, Lega Nord Bossi 6,86%, Sinistra Ecologia Libertà Convendola 5,66%, Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it 5,27%, Di Pietro Italia dei Valori 4,76%, Casini Unione di Centro Libertas 2,41%, Domenico Coppola Sindaco 1,66%, Futuro e Libertà 1,41%, Federazione della Sinistra Rifondazione dei Comunisti Italiani 1,15%, Consumatori per Fassino 1,13%, Lista del Grillo Noeuro 1,01%, le altre liste hanno totalizzato un risultato inferiore all'1%. Trovate, vi ricordo, tutto il dettaglio delle preferenze, dei voti di lista sul sito della città www.comune.torino.it, noi rimaniamo in attesa di questi due seggi che mancano all'appello per il Sindaco e il Consiglio Comunale, quanto ai consigli di circoscrizione al momento ci risulta che ne manchino più o meno una dozzina, vi terremo ovviamente informati come abbiamo fatto fin qui in questa lunghissima diretta elettorale. Ci rivediamo alle sei e mezza.